A Piazza Sant'Anna apriamo Maggio Cinema con omaggi festeggianti e il primo del film proiettato è un film del 1911, il grande colossal italiano Inferno da Dante, naturalmente. L'omaggio è al grande Dante Alighieri, è un film straordinario, chiaramente un film muto, la sonorizzazione è di Edison Studio, la pellicola restaurata è stata concessa dalla Cinetefica di Bologna, gli autori sono Deliguoro, Badovano e Bertolini, insomma è un vero colossal di altri tempi che apre la nostra Kermess cinematografica e a seguire un altro omaggio festeggiante ed è al grande Lino Manfredi a cento anni della nascita. Il film è di Brusati, pane e cioccolata, un film tragicomico, drammatico, che dà la misura più alta del talento e dell'interpretazione di Lino Manfredi. Queste sono le due proiezioni che faremo all'aperto, qui a Sant'Anna, poi si continua il set e l'otto alle 21 allo Smeraldo, sempre in questo mese, con un omaggio ad Alida Valli, si aprirà il set con Alida, un docufilm bellissimo sulla grande star italiana, non solo, internazionale, a seguire il senso di Visconti e il giorno dopo l'otto, ricordo a cento anni anche qui dalla nascita della grande Giulietta Masina con una pellicola di Fellini, Giulietta degli Spiriti. E non è un caso che nella giornata dell'otto abbiamo ricordato Giulietta Masina con Giulietta degli Spiriti e il grido di Antonioni per Valli, perché entrambi i film vantano la straordinaria fotografia di Gianni di Venanzo. E qui naturalmente chiudiamo il nostro omaggio al cinema che mi sembra importante. E poi arrivederci a settembre.